Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del nostro telegiornale di Piemonte e Liguria. In primo piano c'è la politica. In corso infatti a Montecitorio un nuovo incontro tra il leader della Lega Matteo Salvini e il capo del Movimento Politico 5 Stelle Luigi Di Maio. Sul tavolo il nome o la rosa di nomi da indicare al Colle per la guida del Governo e l'accordo sul Presidente del Consiglio sarebbe vicino. Ci racconta tutto Alessandra Della Capo. ...europea, lo stop alla legge Fornero e lo stop alla Torino-Lione, la TAV e poi la questione immigrazione, tutto il contesto legato alle pensioni e all'occupazione. Sono questi alcuni dei nodi contenuti nel contratto di governo. Ancora in saldo la Premiership Lega Movimento 5 Stelle. La trattativa è arenata ancora su Di Maio ma come sapete sono emersi altri nomi. Cosa ne pensa la gente? Chi vorrebbe come Premier? Di Maio o Salvini? Nessuno dei due. Penso che sia una cosa migliore. Forse riusciamo a cambiare quello che avevamo di vecchio. Speriamo bene. Chi vorrebbe come Premier tra Salvini e Di Maio? Sinceramente non ho nessuna preferenza dei due. Uno o l'altro per me va bene lo stesso. Anche un esterno va benissimo. Questa politica mi ha nauseato. Quindi non la seguo, non voto. Tanto alla fine tutte le volte che ho votato la gente ha fatto quello che ha voluto quando è andata lì al governo. Quale dei due se ce n'è uno? Salvini. Non c'è nessuno che mi piaccia sinceramente perché ognuno fa i propri comodi. Mi sa che non si può più. Io ero per Salvini però mi sembra di aver capito che loro due o si escludono o si fanno addirittura da parte per lasciare un altro Premier sempre politico però. La Lega vorrebbe comunque il Ministero dell'Interno per riorganizzare il discorso sicurezza. In tal senso lei è d'accordo immagino? Sì, sì, da quel lato lì sono pienamente d'accordo. Avendo votato comunque essendo dalla parte della Lega sono pienamente d'accordo con quello che potranno fare loro. Anche i 5 Stelle comunque si sono uniti quindi spero che possano dare una mano per portare un governo finalmente a quest'Italia che ormai se non sbaglio sono 73 giorni che siamo senza. Quindi pare al Libano credo. Cambiamo l'argomento e ci spostiamo al Serraval Retail Park che sta per diventare il centro commerciale più grande d'Europa. Ha inaugurato il nuovo ramo trasversale che collega due strade provinciali e che permetterà di far defluire più velocemente le auto. Ketty, porcedo. Sta diventando sempre più il centro del mondo commerciale. Il Retail Park di Serraval e Scrivia ormai è lanciato a tutta birra verso una sfilza infinita di Guinness dei Primati. Una grande intuizione che aveva preso forma nel 2000 quando inaugurarono i primi negozi e già allora si era trattato di un evento epocale. Quelle casette colorate sullo stile di Porto Cervo a far brillare in un piccolo paese di provincia grandi firme del panorama mondiale a prezzi super scontati avevano fin da subito catturato l'attenzione anche di compratori oltreoceano. L'outlet negli anni si è mangiato sempre più porzioni di terra fino a diventare uno dei centri commerciali più grandi d'Europa. Una realtà che non poteva andare fuori tempo con la viabilità necessaria quanto vitale per gli automobilisti. L'inaugurazione del nuovo ramo trasversale è solo l'ultimo tassello di un grande progetto di ampliamento di Serravalle Retail Park. Inaugurato alla presenza dell'amministratore delegato di Aedes, la finanziaria titolare del Retail, Giuseppe Roveda, dei sindaci di Serravalle, Alberto Carbone, di quello di Noviligore e Rocchino Muliere, oltre che dal presidente della provincia Gianfranco Baldi, la nuova opera di 630 metri collega le provinciali 35 bis dei Giovi e la 35 ter dei Giovi, bypassando così la ferrovia Torino-Genova. Sabato 14 giugno è previsto un altro importante taglio del nastro con l'inaugurazione di una nuova area di negozi che andrà a formare 40.000 metri quadrati di shopping. Ci saranno anche locali pubblici attorno a una piazza che resterà aperta anche alla sera e poi una torre a led alta 20 metri. Inoltre per l'occasione sarà cotta una focaccia lunga 100 metri e sarà ancora Guinness dei Primati. Ora ci spostiamo sulla cronaca e ad Asti, sgominata dai carabinieri una banda di ladri esperti in furti in garage e cantine dei condomini di Asti e di Cuneo. 137 i colpi messi a segno, 5 le persone arrestate, 2 ai domiciliari. Conclusione dell'operazione è denominata Bazar. Ci racconta tutto Franco Capone. I carabinieri del comando compagnia di Asti hanno sgominato una banda di ladri specializzata in razzie nei locali cantine e nei garage dei condomini di Asti e di Cuneo. Secondo quanto è stato detto nel corso di una conferenza stampa tenutasi questa mattina presso il comando provinciale dell'arma, la banda avrebbe messo a segno 136 furti, 5 le persone arrestate, 2 denunciate ed attualmente agli arresti domiciliari. Tutti sono accusati di furto aggravato e di ricettazione. Oltre 30 i carabinieri che hanno partecipato al blitz scattato questa mattina all'alba denominata operazione Gran Bazar perché la merce rubata veniva poi venduta per diverse migliaia di euro. smascherata attraverso un video girato all'arma nel quale si evidenzia la facilità con cui venivano forzate le porte con un piede di porco e la rapidità dei ladri che riuscivano a svuotare garage e cantine in pochi minuti. ...a questa frattura. Per quanto riguarda... Non è facile accettare la separazione dalla donna amata e per un reato perseguitarla con palesi diffamazioni. Sotto inchiesta per stalking è finito un poliziotto di Alessandria al servizio di Emma Camagna. Per oltre un anno Antonio Poletti, 55enne poliziotto casertano d'origine abitante ad Alessandria, si è vendicato della donna che non amandola più lo aveva lasciato diffamandola e di diffamazione dovrà rispondere penalmente oltre che di stalking. Il pubblico ministero della procura di Alessandria Antonio Padalino ha infatti firmato la chiusura delle indagini a suo carico contestandogli queste due imputazioni. Ha tormentato la donna, dice l'accusa, per mesi fino a quando lei non lo ha denunciato. In giuri e petulanza non finire, poi l'uomo tappezzò di muri di una cittadina della provincia dove lei vive con un centinaio di manifestini, con stampata la foto e il nome dell'amata, apostrofandola con i più ricorrenti epiteti attinti dal manuale dell'uomo deluso. Ovviamente erano anonimi, ma la donna era ben certa dell'identità dell'autore. In occasione del compleanno di lei infilò una copia dei manifesti in una busta che le spedì con un biglietto recante scritto «Spero che il regalo sia stato di tuo gradimento». Ovviamente non lo era fatto, così come non lo erano state pesanti scritte impresse con lo spray sul muro e sul marciapiede dove c'è la casa della donna e sul perimetro dello stadio. Un comportamento che per l'accusa configura perfettamente il reato di stalking. Al via quattro progetti di ricerca per trovare nuove cure contro il mesotelioma. Il servizio. Quattro progetti di ricerca con l'obiettivo di individuare nuove terapie per il mesotelioma. Le ha approvate nella sede dell'assessorato regionale alla sanità il comitato strategico a Mianto presieduto dal sindaco di Casale Titti Palazzetti accogliendo la proposta presentata da professor Giovanni Apolone coordinatore scientifico del progetto mesotelioma e direttore scientifico dell'Istituto Nazionale dei Tumori. Si tratta di un passaggio importante per il prosiegue del lavoro che abbiamo portato avanti come Regione Piemonte ha sottolineato l'assessore regionale alla sanità che ha partecipato alla riunione insieme all'assessore all'ambiente. Abbiamo voluto conferire un valore nazionale all'attività e all'intera ricerca sul mesotelioma. Lo studio, voluto e finanziato dall'Associazione Familiari Vittime Amianto è gestito dall'azienda ospedaliera e dalla SL di Alessandria e vede il coinvolgimento per quanto riguarda le attività di ricerca delle Università degli Studi di Turino e del Piemonte Orientale dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri e dell'Istituto Scientifico Romagnolo per lo studio e la cura dei tumori. I progetti nel loro complesso prevedono un finanziamento iniziale di quasi 1,2 milioni di euro e una prima rendicontazione scientifica ed economica entro 18 mesi dall'avvio in base alla quale si valuterà la continuazione delle ricerche. L'attività sarà portata avanti da quattro team diversi, ognuno con un fine specifico. Il mesotelioma allo stato attuale è un tipo di tumore che risponde poco alle terapie. I progetti approvati hanno come fine proprio quello di trovare nuove evidenze utili alle cure, in particolare nel campo della medicina personalizzata. L'Associazione di Confagricoltura Donna nello Statuto ha chiaramente specificato che a scopo è di favorire la reciproca conoscenza tra le associate. Questo hanno fatto ieri le imprenditrici agricole della provincia di Alessandria che hanno approfittato dell'Assemblea per organizzare anche una merenda sinoira con musica e condivisione delle specialità che produce ognuna di loro. Il servizio è di De De Vinci. L'Assemblea ordinaria annuale di Confagricoltura Donna si è tenuta quest'anno a Morsasco, nella Quese, per la precisione a Villa Delfini, potere La Guardia di Graziella Priarone. E come ci ha detto la Presidente di Confagricoltura Donna Alessandria, Michela Marengo, è stata l'occasione per fare un bilancio sull'attività dell'anno passato e impostare il futuro. Sì, un bilancio dell'attività fatta e soprattutto di quello che andremo a fare. Perché devo dire che ho un consiglio stupendo di donne attente, attive, propositive ed è molto importante questo. Considerate che l'agricoltura, il mondo femminile in agricoltura rappresenta il 30% delle aziende. 30% delle aziende, anche nella nostra provincia, sono aziende al femminile. Io ho l'azienda Strevi, produco vino e siamo tre sorelle in azienda, ma ci sono tantissime aziende. La provincia di Alessandria è una provincia meravigliosa, perché tocchiamo un po' tutti i prodotti agricoli. Abbiamo il grano, il riso, le nocciole, l'uva, quindi tantissime cose. Abbiamo aziende che distribuiscono latte, che allevano vitelli. Abbiamo tantissime realtà e per noi donne è importante fare rete, è importante guardare il nostro territorio per farlo crescere e soprattutto oggi è uscita una cosa importante che è quella di guardare i nostri giovani per guardare al futuro. Questo è importante, è importante per noi donne e per il nostro territorio. Ci spostiamo a Ovada perché è arrivato il finanziamento, entro l'estate partirà la gara di appalto e dentro la fine del 2018 i lavori di ammodernamento del teatro comunale ovadese. Nel 2019 poi la riapertura. Ci racconta tutto Fabrizio Mattana. 200.000 euro per rilanciare il teatro. E questa è la cifra che la Regione Piemonte ha messo a disposizione della città di Ovada affinché si possano iniziare i tanto attesi lavori di restyling del comunale, chiuso ormai da alcuni anni, ovvero da quando gli ultimi gestori avevano consegnato le chiavi al comune. Era poi emerso l'urgente necessità di interventi per adeguamenti strutturali che avrebbero necessitato di una somma consistente, che però Palazzo Delfino non poteva permettersi di spendere, anche a causa dei vincoli dovuti al patto di stabilità. Era stato redato un progetto che prevedeva un totale di spesa di 397.100 euro, ma finora i lavori non potevano essere avviati. Nel corso degli ultimi anni il comune aveva chiesto aiuto alla Regione, che malgrado le promesse aveva poi fatto orecchie da mercante, un lavoro persuasivo che è continuato con incontri fra l'assessore alla cultura del comune di Ovada, Roberta Pareto, e quello regionale Antonella Parigi. Ora finalmente il finanziamento tanto atteso è arrivato. 200.000 euro dalla Regione più un contributo comunale faranno sì che si possa partire con la gara di appalto entro l'estate e poi con i lavori entro la fine del 2018 e riaprire il teatro entro il 2019. Anno di elezioni e il rifacimento del comunale sarebbe un ottimo fiore all'occhiello dell'amministrazione uscente. La sala sarà probabilmente inserita nel circuito della Fondazione Regionale Live Piemonte dal Vivo. Una serata di approfondimento domani al 18 maggio alle 21.15 in Biblioteca Cartosio sulla nuova ricostruzione della strage di Via Fani del 16 marcio 78 e il rapimento di Aldomoro all'incontro che sarà introdotto dal sindaco Mario Morena e intervenerà l'olorevole Federico Fornano. Ora vi lascio la pagina sportiva, ma vi ricordo che questa sera non andrà in onda la nostra trasmissione grigio nel cuore che tornerà sempre alle 21.15, prossimo giovedì 24 maggio per raccontare le emozioni dell'Alessandria nel primo turno nazionale degli spareggi per la Serie B contro il Feralpi Salò. Dopo non perdetevi meteo e notizie utili. Grazie per essere stati con noi, buona giornata.